Tempo di Vinitaly anche per Vivo Cantina e circa 2000 soci produttori, 6300 ettari di vigneto e un progetto ambizioso presentato proprio in occasione di Vinitaly. Abbiamo degli obiettivi ambiziosi, in questa annata presentiamo una nuova linea di prodotti ottenuti secondo la lotta integrata, quindi con dei disciplinari di produzione che vanno incontro alla sostenibilità e vediamo che il pubblico al quale presentiamo questi prodotti a grande interesse per queste nuove produzioni. Ben tra le etichette presentate a Verona. Nuove linee, nuove etichette, nuovi mercati e una fascia di mercato che si rivolge anche ai giovani. Abbiamo un prosecco, uno spumante prosecco e due prodotti classici con la DOC Venezia, Pinot Grigio e Merlot. L'attenzione arriva dal pubblico nazionale ma anche internazionale immagino. Soprattutto internazionale, sia il pubblico del nord Europa ma anche Stati Uniti e Canada.